Laboratori scientifici, performance artistiche e approfondimenti su ricerche di livello internazionale. Si è aperta a Napoli la 29esima edizione di Futuro Remoto, manifestazione che lascia quest'anno la classica sede di Città della Scienza e approda in piazza Plebiscito, nel cuore della città. Il grande villaggio della scienza racchiude nove isole tematiche che ospitano laboratori interattivi, workshop e piccole mostre su cibo e alimentazione, innovazione, spazio, terra, segnali e simboli, città, mente e corpo. Al centro una grande installazione che rappresenta un muro, simbolo delle frontiere e dei confini, quelli del pregiudizio e della discriminazione ancora da abbattere. Oltre le frontiere, senza le frontiere, senza confini, senza pregiudizi, senza odio, senza indifferenza. E chi ha radici culturali profonde abbatte le mura. Anche qui delle mura si sono abbattute, così come l'abbiamo fatto anche noi come Comune di Napoli nella giornata del rifugiato. Credo che questo sia un messaggio importante, le mani delle differenze contro il muro dell'indifferenza. L'evento, organizzato dalla Fondazione Idis con l'Università Federico II e l'Ufficio Scolastico Regionale, ha visto il coinvolgimento di 400 tra istituzioni, centri di ricerca, università, scuole e associazioni artistiche e culturali. Noi abbiamo fortemente contribuito all'utilizzo della piazza. Riteniamo che la cultura in piazza sia il messaggio più forte per conoscere, per informarsi, per progettare il futuro, per incuriosirsi, per aprire la mente a nuove prospettive e anche per i giovani scegliere. Quindi scegliere magari dove orientarsi. Il successo è stato enorme. Basta girare e vedere tantissime istituzioni presenti, tantissime associazioni, tantissimo mondo del volontariato. Penso un grande successo. Penso un grande successo.